Caro Don Luigi, tu sei stata una figura fondamentale nella vita di Adriana Zari. Le hai permesso di realizzare la sua vocazione monastica, accogliendola qui ad Albiano nel 1970 e diverse volte l'hai raccontato. Ci puoi dire qualcosa di quando l'hai conosciuta e di come è nata la vostra amicizia? Adriana Zari era nata nel comune di San Lazaro di Savena, che è alle porte di Bologna, pochi chilometri, ed è il comune dove era nata mia mamma e dove noi, la famiglia andava tutte le stati, anzi dal 37, dal Veneto dove prima abitava, si è trasferita lì. Però era di un'altra parrocchia, allora non c'era tanta contiguità, ecco, ma si sapeva che la figlia del mugnaio della località girava addirittura a cavallo. L'incontrae, devo anche dire che quando ero prima d'essere vescovo, lei aveva scritto un libro per l'edizione dei Deoniani, che essendo religiosa avevano bisogno del permesso, nei lovstat si diceva, della curia del vescovo. Aveva un suo libro, lo diedero da me perché lo esaminassi, e io lo diedi al vicario generale dicendo i motivi per cui secondo me era imbarazzante dare il permesso, perché per esempio criticavo il cardinale Siri, dico come fa l'arcivesco di Bologna a dare l'approvazione per un libro, tanto è vero che lei cambiò l'editore e lo stampò dalla Locusta di Vicenza. Però l'editore Gribaudi, per cui allora scrivevo ed era l'editore suo, me la fece incontrare a Roma. Fra l'altro lei abitava a Roma, ma volevo uscire dalla città, aveva già disdetto l'affitto della casa dove stava Roma, aveva già preparato i bagagli, ma poi le aveva trovato Gribaudi in una canonica nuova, vuota, all'inizio della Val di Susa, e quando il vescovo di Susa seppe che sarebbe stata lei ad andare ad abitare, disse, andai a parlarle anch'io personalmente, disse non voglio quella donna in diocese. E siccome il castello di Albiano, dove abito adesso anch'io, era la residenza estiva del vescovo di Ivrea, in quel momento era vuoto, e allora le offrì di venire al castello di Ivrea, dove voleva venire con due religiosi, era un ex-domenicano, un ex-comboniano, avrebbe fatto volentieri comunità con loro, ma era una brava donna, Adriana, ma non era facile, ecco, fare insieme, ecco, comunità, tanto è vero che uno dopo l'altro se ne andarono, e lei trovava che era troppo grande questo castello, e allora disse che non voleva più starci, e gli amici di Ivrea le trovarono una casa lì nella pianura ai piedi della collina, una casa isolata, era un'antica, insomma, dove si, un mulino, era, ma a 500 metri dalla casa più vicina, lei si mise lì, lo attrezzò e cominciò a far vita sua, personale, ma cominciarono ad andare a insidiare per rubare, una notte andò per fuori uno che tentò di violentarla, e dicevano che era il padrone della casa, che era il fratello dell'antico segretario nazionale dell'MSI, che voleva mandarla via, lei andò via, andò a una comunità alle porte di Cuneo, ma era una comunità già avviata a modo suo, anche lì si faceva fatica a trovarsi, e fu lì che allora le offrì la canonica di una parrocchia abbastanza vicina a Ivrea, la canonica era morta l'ultimo partito, l'ultimo parroco, e non c'era da mandare un altro parroco, non solo, ma la canonica era in periferia della borgata, e accanto alla chiesa un prete maestro aveva lasciato la casa, e allora il parroco andava a stare in questa casa accanto alla parrocchia e lasciava vacante l'antica canonica fuori dal paese, e lei andò a stare lì, ecco, e la frazione di crotte è lì che lei si è installata, gli amici comprarono anche, il parroco aveva venduto nel cortile, c'era un lato, l'edificio, lo ricomprarono in maniera che lei poteva sistemarsi in questa casa, dove poteva fare incontri in questo, in questo ultimo edificio, aveva anche attrezzato alcuni letti, per cui se qualcuno, per gli incontri che faceva, erano incontri singolari, perché incontrava per esempio la sua amica, che era la Rossana Rossanda, Ingrao, il senatore comunista Ingrao, venne più volte, ma venne anche il, c'era un cardinale Silvestrini di Roma, che veniva, e questi incontri, degli incontri singolari, e lei è stata lì, fino alla fine, e lì è anche mancata, alle crotte della frazione del comune di Strambino, a pochi chilometri da Ibrea. Adriana è spesso ricordata per le sue doti di grande polemista, ma in realtà è stata soprattutto una donna innamorata di Dio, una donna che ha fatto dei suoi eremi spazi di contemplazione, di silenzio, di bellezza, e di grazia femminile. Hai qualche ricordo speciale, vivo, di questa sua sensibilità spirituale? Io l'ammiravo per quella, ma devo dire che andavo, ogni tanto andavo a trovarla, sì, ma non entravamo molto nella vita personale, nella vita spirituale, a parte il fatto che lei diceva, Vettazzi deve buttarti un po' di più. Mi trovava troppo esitante, ecco, di fronte alle sue prospettive molto avanzate, ma io le dicevo, io tengo famiglia, cioè devo muovermi in modo da portarmi dietro alla Diocesi, ecco, anche coloro che non condividevano, che capissero, forse è per questo che non si entrava molto in discorsi spirituali, anche se io l'ammiravo tanto che quando, anche questa sua spiritualità, che quando lei mi chiese di poter tenere il Santissimo, allora le diede la facoltà. Aveva fatto nell'antica, non so se era cantina o qua, una specie di chiesa, ma poi aveva una piccola, una piccola cameretta, lei stava al primo piano, e si era fatta perfino un ascensore per andare giù, ecco, al pian terreno dove aveva questa cameretta e dove teneva il Santissimo Sacramento. Perché lei qualche volta diceva le messe, aveva un prete amico che è ancora vivo, e allora dicevano, ha messo poi a modo loro, insomma, a tavola, ma ognuno, ma amava andare a pregare davanti al Santissimo. Ecco, questa è la concessione che le ho fatte e devo dire che la sua spiritualità l'ho conosciuta più dai suoi libri che non dalla conversazione con lei. È un limite, devo ammettere, ecco, avrei potuto sfruttare, ma questa, come dire, questa sfumatura di divergenza ci teneva ognuno sul proprio, lei non entrava in questi discorsi profondi e io non le facevo delle domande. Mi dispiace, ma è stato così. Però la mia stima aveva, mi aveva portato a concedere di tenere il Santissimo in casa. Grazie Don Luigi per la tua testimonianza.